Cari amici del canale YouTube Dentro la Notizia, il 15 aprile tutti i governi dell'Unione, eccetto la Francia, contraria e il Belgio astenuto, hanno dato l'ok ai mandati chiesti dalla Commissione europea per negoziare il nuovo accordo transatlantico di liberalizzazione del commercio USA-UE. Non è il temuto TTIP, ma una versione ridotta che non per questo non nasconde alcune insidie al suo interno. Per capirci, è un po' come una bambola matriosca. Al suo interno si potrebbe sviluppare un TTIP vero e proprio se non vigiliamo attentamente sulla situazione. Ufficialmente questo accordo punta a evitare i dazi USA sulle auto U, e ciò avvantaggerebbe in particolare la Germania. E contemporaneamente si propone di risolvere il problema dei dazi su acciaio e alluminio. A differenza del temibile TTIP, vero e proprio accordo di libero scambio non solo tra merci industriali ma anche prodotti agricoli, appalti pubblici, investimenti, servizi ed energia, il nuovo mini accordo con gli Stati Uniti fa parte degli impegni presi nella dichiarazione congiunta Juncker-Trump dello scorso luglio, mirati ad evitare la guerra dei dazi. Il ministro dell'ambiente, delle imprese, del commercio e dell'imprenditoria rumena, Stefan Radu Oprea, dice in merito a questo accordo. L'adozione da oggi delle direttive negoziali dell'Unione Europea fornisce un chiaro segnale dell'impegno dell'Unione Europea a favore di un'agenda commerciale positiva con gli Stati Uniti e dell'attuazione del programma di lavoro rigorosamente definito dai presidenti Trump e Juncker il 25 luglio 2018. Ma vorrei essere chiaro, non parleremo di agricoltura o appalti pubblici. Un altro elemento importante è che l'impatto ambientale e sociale dell'accordo sarà pienamente preso in considerazione durante i negoziati. I vantaggi, secondo alcuni, sono che ora l'Europa è pronta ad avviare negoziati con gli Stati Uniti e, proprio grazie a questo documento sottoscritto dai 28 Stati, tra cui l'Italia, si porrebbe fine al primo TTIP, considerato obsoleto e non più pertinente. Non è dello stesso avviso la campagna Stop TTIP Italia, secondo cui resta il mandato negoziale relativo al primo TTIP, accordato nel 2013, prima che un'ondata di proteste stoppasse le trattative. Il mandato, però, non è mai stato revocato e quindi ancora utilizzabile e che, come dicevamo, riguarda invece tutti i settori, compresa l'agricoltura e i servizi pubblici. Secondo Stop TTIP Italia, i governi dell'Unione Europea stanno autorizzando la Commissione a trattare con Trump l'azzeramento di dazi e quote ingiustificati su tutti i prodotti industriali scambiati tranne quelli agroalimentari. I punti critici di questo trattato sono che non c'è alcuna garanzia che gli scambi di merci verranno adattati alle esigenze dell'ambiente. Il negoziato mette sul piatto anche le regole d'origine, senza che il rispetto degli standard europei, pur citati nel testo, sia in alcun modo vincolante. Per aggirarli o indebolirli la strategia è semplice, semplificare il riconoscimento dei risultati delle valutazioni di conformità dei prodotti, il che significa, con buona probabilità, scegliere la via meno rigorosa per produrre e o distribuire e di conseguenza autorizzare le importazioni di sostanze o prodotti. Il tutto promette Bruxelles garantendo un livello elevato di protezione nell'Unione Europea, che però non è definito in alcun modo. Dunque, valutazioni che non si basano sulla qualità, sull'impatto ambientale e o sociale. Secondo Stop TTIP Italia, cibo, ambiente, chimica, farmaci, tutto sarà oggetto di contrattazione riservata tra Juncker e Trump, grazie all'ok dei paesi membri come il nostro. E questo dovrebbe preoccuparci. Game over. Aveva twittato Trump al termine dell'indagine di Mueller. «Avrei avuto il diritto di fermare la caccia alle streghe, se volevo», ha scritto in seguito il presidente americano. Ma il rapporto finale di 448 pagine dell'investigatore speciale Robert Mueller ha tracciato un quadro diverso, nonostante le dichiarazioni sollevate di Trump. Non a caso, il Washington Post, dopo la pubblicazione, ha definito la vicenda una cultura dell'inganno e della corruzione. E in effetti, il rapporto è il ritratto di un presidente che voleva spingere il suo staff in atti illegali e che era ossessionato dal liberarsi di Mueller. C'è da dire che Mueller non ha chiaramente accusato Trump e non ha formulato ulteriori accuse. La formulazione del rapporto, tuttavia, ha accusato Barr di comportarsi come l'avvocato di Trump, piuttosto che un ministro. Trump ha provato chiaramente, secondo Mueller, di ostacolare l'indagine, senza però riuscirci. Dobbiamo premettere che l'intento criminale è necessario per un atto d'accusa per disabilità del presidente. Quindi la domanda che dovremmo porci è, Trump voleva veramente sabotare sistematicamente le indagini? O esprimeva la sua frustrazione, il suo disappunto per le chiamate in causa dei dipendenti? Pur passando alla seconda opzione, in realtà il rapporto di Mueller non parla di capricci impulsivi, ma di diversi tentativi mirati per porre fine all'indagine. Il documento descrive ben dieci diversi episodi che potrebbero essere utilizzati per la disabilità. Ad ogni modo, Mueller ha lasciato aperta la questione della colpevolezza. Queste le sue parole. Se fossimo convinti, dopo un'indagine approfondita dei fatti, che il presidente chiaramente non ha commesso alcuna disabilità legale, spiegheremo questo in modo chiaro. Tuttavia, noi, sulla base dei fatti e dei principi giuridici applicabili, non siamo in grado di giungere a questa conclusione. Le prove che abbiamo raccolto circa le azioni e le intenzioni del presidente rendono difficile concludere chiaramente che non ci siano atti criminali. Alcuni leggono queste parole come un invito al congresso a trarre conseguenze politiche dalle prove. Molti osservatori hanno invece citato il rapporto come una segnalazione di impeachment, una raccomandazione per l'impeachment. Non è di questo avviso la presidente della Camera dei rappresentanti, la democratica Nancy Pelosi. La quale afferma di non essere favorevole all'impeachment, fino a quando non ci saranno prove schiaccianti contro Trump, che verrebbero riconosciute da tutte le parti. Anche oggi Di Maio e Salvini si sono resi protagonisti di uno scontro che, a mio avviso, vede all'origine un profondo errore nella comunicazione. Questa strategia di uno o più spin doctor non porterà a nulla di buono per il paese, che ha bisogno di essere unito e compatto contro i veri nemici. A meno che qualcuno voglia fare il gioco dell'elite. Ma questo lo sapremo presto. Altra benzina sul fuoco è stata gettata quando il ministro Toninelli ha revocato le deleghe a Siri senza avvisare nessuno. Per contro, il sottosegretario ha fatto sapere che non si sarebbe dimesso. Questo è quanto scrive sui social il leader del movimento. Anche oggi la Lega minaccia di far cadere il governo. Lo aveva già fatto con la TAV. Sembra ci siano persino contatti in corso con Berlusconi per fare un altro esecutivo. Sono pieni i giornali di queste ricostruzioni e lo trovo gravissimo. Sono davvero sbalordito. Trovo grave che si prenda sempre la palla al balzo per minacciare di buttare via tutto. Ma dov'è il senso di responsabilità verso i cittadini? Dov'è la voglia di cambiare davvero le cose, di continuare un percorso, di migliorare il paese, come abbiamo scritto nel contratto? D'altra parte, Salvini smentisce i pensieri di Di Maio con queste parole. Ma che crisi di governo! La Lega vuole solo governare bene e a lungo nell'interesse degli italiani. La crisi di governo è solo nella testa di Di Maio, che farebbe bene a non parlare di porti aperti per gli immigrati e a controllare che il reddito di cittadinanza non finisca a furbetti, delinquenti ed ex-terroristi. Dalla sede della Lega arriva un'altra smentita. Non c'è stato alcun contatto con Forza Italia, a differenza dei Cinque Stelle che spesso sembrano andare d'accordo con il PD. Di Maio insiste. Scusatemi, ma è stato proprio il Movimento 5 Stelle a bloccare i tentativi del sottosegretario leghista Siri di introdurre alcune misure, diciamo, un po' controverse. E anche i giornali oggi ne danno conto. Noi ce le ricordiamo quando arrivarono sui nostri tavoli, ci sembravano strane e le bloccammo. Questo dimostra che gli anticorpi del Movimento ci sono e sono ancora forti. Senza di noi chissà cosa sarebbe accaduto. Abbiamo sempre agito rispettando un punto, un principio, la legalità. Siamo sempre stati coerenti su questo. Lo abbiamo dimostrato anche recentemente a Roma. Siamo nati sulla questione morale e gli indagati per corruzione o per aver preso mazzette tangenti, no, non possiamo accettarli. Siamo entrati per cambiare le cose, non per lasciarle così come sono. Ieri Salvini, prima dell'inizio del Consiglio dei Ministri, convocato a Reggio Calabria, raggiunge Conte con queste ferme parole. Guarda che così non si va da nessuna parte. Con gli insulti non risolvete nulla. Con gli attacchi personali non ottenete niente. Sappiate che Siri non si dimette, né ora né mai. Al tentativo di replicare di Conte, il Ministro degli Interni ribatte «Ma di che stiamo parlando? Con questo atteggiamento state bloccando il Paese solo per le elezioni europee. Ma allora ditelo, ditelo che volete far saltare tutto!» Nonostante tutto, il Consiglio dei Ministri ieri si è chiuso con due attesi provvedimenti. L'approvazione del decreto sanità e lo sblocca cantieri. Cari amici, iscrivetevi al canale YouTube Dentro la Notizia e attivate la campanella per essere avvisati sui nuovi TG Flash, in quanto la programmazione per il momento non potrà più essere giornaliera per mancanza di fondi. Nonostante il canale abbia circa 15.000 iscritti e stia crescendo molto bene e velocemente, trovo curioso che con tutti quelli che dicono di agire nell'interesse delle persone, o della patria, non si raggiunga un minimo che ci permetta di dedicarci a tempo pieno nel fare un'informazione innovativa che metta nudo le losche trame dell'elita ai nostri danni, che ci avvisi per tempo e che riferisca a quanto l'informazione mainstream tace. Mi devo forse fare l'idea che ognuno pensi al suo orticello e non al bene del Paese? Chi ha realmente a cuore gli interessi della gente comune può sostenerci con una donazione. Un abbraccio dal vostro Roby!